Bentornati a tutti quanti su CarbioFerriTV, sto per il vostro season, allora Black Panther Wakanda Forever, finalmente ieri l'ho visto e oggi vi porto la recensione in brevissimo Parto dal dire che io non capisco, o meglio capisco, perché il pubblico è stato spessato in due parti, se chi l'ha pressato o chi non gli è piaciuto posso capire Ma non capisco queste critiche idiote verso il fatto di Namor, perché il via del nome viene spiegato perché si chiama così, non capisco, ma è una critica stupida Ti spiegano il perché l'ho voluto chiamare così, e secondo me la cosa è anche abbastanza bella, dal punto di vista proprio logico del nome Poi, il film si lascia guardare, a me due ore e quaranta, ma che sono volate, secondo me non è pesante, come ho sentito dire in giro che è un film lungo, non finisce più Ragazzi, io ero lì, due ore e quaranta, mi sembra che sono passati mezz'ora, sarà una mia cosa, però io non ho visto il film così tanto lento e noioso Assolutamente no, poi, mi è piaciuto tanto la grosso omaggio a Sagi Busman, in questa pellicola si piange dall'inizio alla fine, ve lo posso garantire Con la cena post-credit che vi spesserà in mille pezzi, poi ne parleremo in un altro video di quella post-credit, farò lo spoiler Perché voglio parlare un po' di quello che potrebbe essere il futuro del Wakanda, e del franchise del Black Panther E poi, mi è piaciuta anche Riri Williams, Ironheart E' stata introdotta bene, lei è molto simpatica, sono curioso di vedere la sua serie Ecco, una cosa bella, a me nella serie di Ironheart non me ne fregava niente Ero soltanto un po' curioso di vedere la serie, giusto per capire cosa vogliono fare con lei Ma ora che l'hanno inserita in un contesto così, mi piace come caratterizzate tutto quanto, io dico, ok, la serie adesso voglio guardarla assolutamente Poi Suri, Le Tita Wright è stata bravissima anche lei, Suri è proprio la protagonista assoluta del film, oltre ai vari comprimari Poi bravissima anche Okoye, Angela Bassett è data in un premio Oscar perché come Ramonda è stata fantastica E mi è piaciuta anche naturalmente Martin Freeman nel piccolo ruolo che ha avuto di Everett Ross Piccolo perché il contrario del primo Black Panther, lui qui ha un ruolo, diciamo, di supporto esterno Mentre il primo Black Panther, lì proprio il centro dell'azione, combattiva in Giuseppe Vacandiani Pilota va al drone, se vi ricordate Quindi secondo me, qui Everett Ross ha avuto un ridurzimento Ma passiamo a lui, che secondo me è il miglior villain della fase 4, assolutamente Per me, assolutamente Ed è appunto Namor Non lo chiamo Namor perché Namor non è il suo doppiaggio, lì è stato proprio un problema del nome È Namor Si chiama Namor E basta Namor È interessante È un personaggio che ha avuto anche lui dei drammi, si capisse E mi è piaciuto tantissimo Anche lui Perché è un villain che non è cattivo Capisci che fa le sue tensioni perché deve farle Un po' come era Thanos Capisci che è un villain, si È un cattivo Ma fa quello che fa seguendo una logica, non fuori dagli schemi Ecco, qui è la stessa cosa Mi è piaciuto ovviamente tanto questa cosa di Namor Di metterlo in salello in quel contesto Poi, tutto l'approfondimento culturale del suo popolo Tutto l'approfondimento della città dei Talocchiani Che Talocan, come sapete, non potevano chiamarla Atlantide per via di Aquaman Per via di altre cose Quindi hanno dovuto chiamarla per forza Talocan Hanno dovuto cambiare il nome Infatti loro sono Talocchiani, non Atlantidei Ma sono Atlantidei Sono Atlantidei Hanno dovuto cambiare per forza il nome per diverse cose E secondo me invece il popolo funziona Namora e Atuma non mi hanno convinto Perché li ho trovati molto sotto tono Sono praticamente allo stesso livello del Black Order e Infinity War Nel senso, Black Order e lo scagnossi di Thanos Che fassero quello che devono fare e buon fuori dagli schemi Qui sono caratterizzati superficialmente Perché devono concentrarseli più su Namor ovviamente Quindi posso anche capire Non mi sono dispiassuti Ok, devo dirlo, non mi sono dispiassuti Atuma e Namora Che sono la sorella e il fratello di Namor Però hanno proprio la caratterizzazione Toccata appena Nel senso non aspettatevi di avere un profondimento su di loro Neanche viene detto perché Neanche viene detto la loro nascita Viene fatta della nascita di Namor Questo posso dirlo perché le trailer si vedeva che nasceva Quella si viene approfondita Ma di loro due Namor non spiega neanche Come ha avuto un fratello e una sorella Se non lo spiega sta cosa Però Complessivamente il film si lascia guardare Non è il miglior prodotto Dell'MSO assolutamente Se ne sono gli altri molto più superiori Però sicuramente è il miglior film della fase 4 E anzi è uno dei migliori della fase 4 Perché per me è rimar sempre il primo posto Eternas Un film sperimentale Che a molti non è piaciuto perché era troppo serio A me è piaciuto invece Appunto perché è un film comprendente fuori dagli schemi Marvel Era un film Proprio Emozionale Fatto col cuore Chloe Zhao è stata bravissima a mettere un film Che fosse anche realistico Tra virgolette Qualcosa lì diverso È un film autoriale Quello E quindi bisogna un po' analizzarlo nel dettaglio Eternas Qui Oltre al grande amazzo Sadwick Più o meno la pellicola funziona Due ore e quaranta Che si vanno a dare bene lisse Però Secondo me Il film Dove essere anche un po' più approfondito E taiussato Però Di là degli schemi Qualcosa che non mi ha convinto Ok Il film è stato guardare Io non ho trovato tutti questi problemi Che stanno trovando gli altri Sinceramente E La fase quattro L'è terminata So che a molti Ha fatto abbastanza cagare Posso capire il perché È stata molto sperimentale Infatti ad esempio Me Nue home Mi ha fatto cagare Se non fosse stato per Il fanservice Fatto abbastanza Diciamo Bene Perché non è fatto neanche bene Con il ritorno di Maguire Garfield E i vecchi villain Di Spider-Man Allora ok Per quella parte lì dico Ok Bella emozione Ma per il resto Nue home Mi rimane una sofeca Black Widow È un film veramente mediocre Shang-Chi si lasciava guardare L'Otto Stranger È stato bello Solo perché Se l'assemeremmi La resia E anche lì Hanno criticato L'Otto Stranger Non capisco perché Boh Solo perché Era un film un po' diverso Vabbè Poi è arrivato Torloventander Anche quello Insomma Sì divertente Scalzonato Ma è un film Veramente Demenziale Quindi non possiamo Che classificarlo Ti diverti e basta E poi abbiamo Ovviamente Cos'ha detto Prima Eternals Che è un film Veramente Che secondo me Merita di stare Sempre al primo posto Però Anche Wakanda Forever Se la gioca Non è che se la gioca Male Se la gioca Abbastanza bene Quindi al di là Di tutto questo Posso garantirvi Che comunque L'MSU Adesso con la fase 5 Tornerebbe un po' Allo standard L'han detto Ora il primo film Sarà Into the Wasp Quanto meglio Che introdurrà Kang Il prossimo Villain Degli Avenger E poi Vediamo un po' Quale è il futuro Dell'MSU Ora Vado a me Sopriamo Come se sotto Ma pensate Wakanda Forever Io gli do L'otto Se arriva ragazzi Perché a me è piaciuto E a mio parere Personale Però veramente Non capisco Tutte queste critiche Questo film Se non vi piace più L'MSU Non seguitelo Ma non solo Dissendo voi Dissendo i critici In generale Che l'han criticato Se non vi piace più L'MSU Fa niente Che non lo seguite più Non è utile Andate a criticare I film A caso Però Noi ci vediamo Alla prossima Videostensione Ciao a tutti